Nuovo truffatore seriale scoperto dalla polizia ferroviaria dopo aver accumulato fra i tassisti del territorio un lungo elenco di vittime. L'uomo, un 31enne romano, con già l'attivo numerosi precedenti analoghi, è stato denunciato all'autorità giudiziaria. La truffa era ben congegnata ai danni della categoria dei tassisti, con lo scopo non solo di utilizzare gratuitamente il servizio, ma addirittura di guadagnare laddove invece sarebbero dovuti pagare le singole corse. L'indagine è partita grazie alla denuncia di un tassista faentino, il quale, dopo aver subito il raggiro, parlando con alcuni colleghi, ha scoperto come in tanti si fossero trovati nella sua situazione. Nel caso specifico, il truffatore si è fatto accompagnare da un albergo di Fenza alla stazione ferroviaria di Bologna Centrale, 100 euro l'importo della corsa. Al momento di pagare, il 31enne ha estratto una carta di credito d'oro, apparentemente prestigiosa, la quale però è stata rifiutata dal sistema POS in dotazione al taxi. Il cliente ha provveduto quindi a trovare una soluzione alternativa pagando la corsa con un bonifico telematico tramite cellulare, con una cifra però superiore, 200 euro, cifra minima per quella tipologia di bonifici ad età dell'uomo, versato direttamente sul conto corrente del tassista. La vittima ha così controllato il buon esito dell'operazione sul cellulare del truffatore e ha così consegnato il resto di 100 euro al romano. Il giorno successivo, dopo una verifica in banca, il tassista si è quindi accorto di essere stato truffato. Non solo i 200 euro non erano mai arrivati sul suo conto, ma l'uomo, oltre a non incassare i 100 euro della corsa, a sua volta ha consegnato 100 euro al truffatore.